Dopo tre mesi di pandemia, lavoratori e organizzazioni tornano in piazza e lo fanno, hanno scelto come piazza il Palazzo della Regione? Dopo il primo maggio virtuale abbiamo deciso che era ora ed era il momento di riprenderci le piazze e prendere parola. Abbiamo scelto la piazza davanti a Regione Lombardia perché Regione Lombardia ha dimostrato l'incapacità di gestire questa emergenza. Da un punto di vista sanitario siamo la Regione con la metà dei morti nazionali, con le tragedie delle residenze per anziani, con il personale sanitario senza mezzi di protezione e dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno aspettando la cassa integrazione in deroga che non arriva, lavoratrici e lavoratori che non sanno cosa sarà il loro futuro. Oggi prendiamo parola, ci riprendiamo le piazze e da oggi riparte una primavera ecologica, sociale per tutte e tutti noi. Durante questo lungo confinamento sono stati coniati diversi slogan, uno di questi forse il più famoso è andrà tutto bene, qualcuno ha aggiunto andrà tutto bene se, secondo te e secondo il movimento che tu qui rappresenti andrà tutto bene se? Andrà tutto bene se nulla tornerà come prima, quella che era la normalità, la presunta normalità per noi era già il problema. Andrà tutto bene se la lavoratrice e i lavoratori riprenderanno parola come facciamo noi oggi qua in questa piazza e se riprenderanno in mano il loro destino e il destino anche di questo paese. Andrà tutto bene se la sanità tornerà ad essere generale, gratuita, basata sulla fiscalità generale per tutte e tutti e non privatizzata. Andrà tutto bene se ci sarà attenzione per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dallo smart working che ora diventerà prassi e non viene regolamentato e non c'è il diritto alla disconnessione e andrà a colpire maggiormente soprattutto le donne. Andrà tutto bene se noi ci assumiamo la responsabilità di non tornare a come era prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.